Buongiorno al professor Sergio Rossi, come va professore? Buongiorno, va bene, grazie. Bene, anche la posta svizzera pare che se la passi abbastanza bene, nel senso che vuole diventare ancora più performante. Per farlo ci risiamo, ecco che vengono chiusi altri uffici postali, questa è la prospettiva per i prossimi due o tre anni, e si passerebbe dalle attuali 768 agenzie a 600 circa, che è un taglio notevole. Ora, questo è stato confermato dal direttore generale Roberto Cirillo, che in una intervista di pochissimi giorni fa ha detto, questa è la strada, anzi la chiamiamo la posta di domani e non si cambia. Le proteste naturalmente sono subito arrivate e ci si può chiedere cosa sta succedendo davvero a quello che un nostro collega Daniele Piazza per primo chiamò il gigante giallo. Che cosa succede alla posta svizzera? La posta svizzera, come nel caso anche della Gran Bretagna, dell'Italia e di altri paesi europei, è entrata ormai da anni in un processo di privatizzazione per delle certe politiche che hanno trasferito i manager della posta della strategia aziendale, che cercano di equilibrare i conti trattando la posta svizzera come se fosse un'azienda privata. Le aziende private cercano di massimizzare gli utili, dunque riducendo i costi, aumentando i prezzi di vendita nel caso in cui possano avere una quota di mercato rilevante. Ma la posta svizzera, se dimenticate, i manager, ma poi anche i politici che dovevano dargli una linea rossa, si sono dimenticati che la posta svizzera, come le poste in generale, sono un servizio pubblico. Un servizio pubblico deve prima di tutto soddisfare l'interesse generale della popolazione residente in un dato territorio, in questo caso la Svizzera in quanto tale. Poi, se è possibile, avere degli introiti che superano i costi, dunque di avere degli utili a fine anno. Però non è questo l'obiettivo principale della posta. Mentre il manager ora in carica, il signor Roberto Cirillo, è un manager che come molti altri guarda a un foglio di calcolo dicendo quanti sono i costi, quanti sono i ricavi, facciamo modo almeno di avere un equilibrio fra costi e ricavi, o se possibile avere dei ricavi superiori ai costi, per così avere degli utili, dimostrare che siamo dei manager di successo. Ma un manager di successo nel settore pubblico deve guardare e soddisfare l'interesse generale. Pensiamo alle persone di una certa età che non sono in grado di usare il loro telefono portatile o un computer per fare dei pagamenti, per inviare delle lettere elettroniche tramite l'email, vanno ancora alla posta, pagano addirittura in posta allo sportello postale le loro fatture mensili. Queste persone come faranno se l'ufficio postale dove sono abituati a fare i pagamenti chiuderà e il prossimo sarà a 20 km di distanza, magari queste persone non hanno più la patente di guida o non riescono comunque più a guidare e non hanno alcuna persona in famiglia o nel vicinato che ti possa portare, anche perché poi voler dipendere da qualcuno non è mai una bella cosa. Bisogna pensare che il servizio pubblico è qualcosa di diverso da un bene privato. Il servizio pubblico deve garantire a tutti, ovunque abitino, di avere le stesse garanzie di accesso ai servizi. Questa è la regola. Ma lei ha citato la Gran Bretagna, adesso non ricordo la data, ma almeno 15 anni fa, andando trovare dei parenti, disse beh devo andare a ritirare la posta, mi accompagni? E ho accompagnato pensando di vedere le insegne della posta inglese, eccetera. No, siamo entrati in un negozio di alimentari dove lui ha ritirato la sua posta e mi ha spiegato che all'inizio era stato disorientante come soluzione, ma alla fine era un metodo non male. Ecco, cosa c'è di così inaccettabile nel fatto che invece di un ufficio postale si vada in quello che è un nuovo tipo di agenzia, no? Cioè la posta inserita in una tabaccheria, inserita in un negozio di alimentari, eccetera. Sì, è vero che anziché avere uffici postali a destra e a sinistra, la posta da Svizzera sta cercando di sostituire, di chiudere questo ufficio postale in parte e aprire delle agenzie presso una tabaccheria, una farmacia, un negozio a dettaglio. Però anche qui ci sono dei vincoli, gli orari di apertura sono maggiori, magari, però per prelevare il contante allo sportello c'è un limite di prelievo che magari diventa vincolato. Se io devo fare una spesa di 1000 franchi e ne posso prelevare solo 500 presso la tabaccheria dove l'ufficio può stare chiuso e aperto in un'agenzia, ecco che io o vado in banca magari durante l'orario di apertura oppure di aspettare il giorno seguente o la settimana seguente per fare il pagamento di cui ho bisogno. Poi c'è anche il fatto di un contatto personale in una tabaccheria, in una farmacia, in un negozio a dettaglio, c'è un circolo di personale che collabora con queste agenzie che spesso e volentieri non ha quell'approccio che si ha presso un ufficio postale in un paese remoto dove la persona conosce chi va presso lo sportello per cui c'è un certo legame personale. Questo credo che conti per le persone di una certa età che hanno vissuto tutta la loro vita in un paese magari di montagna o fuori da una zona urbana per cui si sentono un po' lasciate a se stesse, hanno qualche timore anche reverenziale direi di fronte a qualcuno che si trova in una tabaccheria piuttosto che in una farmacia per avere accesso a dei servizi che riguardano la posta, spedire le lettere, ritirare dei pacchi, fare dei pagamenti o prelevare del denaro contante. Insomma la posta è nata con questi obiettivi di servizio pubblico universale. Se ora ritardiamo la consegna dei pacchi, facciamo pagare maggiormente l'invio della posta A e della posta B, magari consegniamo i giornali non tutte le mattine ma una volta ogni due giorni, questo vuol dire che viene meno il servizio pubblico a discapito anche della coesione nazionale. La Svizzera è un paese dove c'è una volontà di stare assieme, di collaborare, pur finanziando magari i divari di crescita o il maggior tasso di disoccupazione in alcuni cantoni rispetto ad altri. Se viene meno un servizio pubblico postale viene meno anche la garanzia di posti di lavoro correttamente remunerati, perché una volta la posta offriva dei posti di lavoro a durata indeterminata con uno stipendio che permetteva di vivere nel luogo in cui si lavorava. Poi la posta è diventata come un'azienda privata, ha ridotto i salari, ha fatto dei contratti di durata determinata e questo ha portato anche le imprese private ad andare in quella direzione dicendo ma in fondo se la posta fa una strategia di quel tipo possiamo fare anche noi aziende private. Dunque è venuto meno anche questo servizio pubblico che garantiva una maggiore occupazione con degli stipendi corretti e con dei contratti di lavoro a durata indeterminata che garantiscono una maggiore sicurezza che ha un lavoro presso la posta. Oggi tutto questo è venuto meno. Lei ha toccato due punti essenziali, da una parte l'idea in una parte appunto della popolazione di avere una distanza sempre maggiore rispetto ai centri decisionali eccetera, quindi di sentirsi più estranei, quindi aumenta anche la frustrazione in un paese come diceva lei che si basava sulla volontà di stare assieme e poi quello dei salari e del personale che comunque perderebbe in parte il suo posto di lavoro. Ci sarebbero meno posti di lavoro alla posta svizzera. Naturalmente questo sempre tenendo conto che deve essere un servizio pubblico anche a fronte delle novità tecnologiche che permettono di fare molte operazioni da casa attraverso internet eccetera. Ora, lei era andato subito al punto, no? C'è una parte del mondo politico svizzero ben diviso, una parte addirittura a sinistra con presenza anche di centro o di destra dall'altra parte agli altri partiti che si sono divisi e la prima parte dice no, noi chiediamo come Parlamento anche, come parlamentare di poterci confrontare con la direzione della posta per capire cosa sta succedendo, per capire dove si sta andando, per intuire quale sarà poi il destino finale, ma non è un po' ipocrita visto che come lei giustamente già segnalava è la politica, è il Parlamento, è il Consiglio federale che hanno dato alla posta una posizione nel mercato diciamo così e chiedendo anche che ci siano profitti perché ne deve guadagnare la confederazione. Quando la posta si comporta come un soggetto del mercato libero ecco che allora scatta la preoccupazione, magari solo per pochi giorni. Sì, assolutamente ha ragione, il peccato originale risiede nella politica a livello federale in Svizzera che ha, se vogliamo, privatizzato smembrando le vecchie PTT, poste, telefoni, telegrafi in la posta e Swisscom. Da un lato la telegrafia, dall'altro lato la posta in quanto spedizione di lettere di pacchi o anche di giornali. Da qui è poi nata questa volontà di privatizzare in fondo non tanto queste aziende ma il loro management, le loro strategie per fare utili e rimpolpare le casse della confederazione. Ma questo vuol dire trasformare un servizio pubblico in un'azienda privata che guarda solo, se non i propri azionisti, ai propri utili da massimizzare nei più brevi termini, riducendo i costi, fra cui gli stipendi, il livello di occupazione e aumentando anche i margini di guadagno. Pensiamo a quanto costerà sempre più spedire le lettere tramite posta A e anche tramite posta B. Tutto questo chiaramente è la colpa della politica della Confederazione Svizzera che ha voluto cercare di aumentare i propri introiti senza aumentare le aliquote d'imposta sugli utili o sui capitali delle persone molto benestanti, ma raccogliendo queste entrate da un servizio pubblico che in realtà dovrebbe restare tale e non essere privatizzato perché sarebbe come snaturarlo. Lo vediamo oggi. Chiaramente poi, scusa di dire, ma in fondo con le email, con i pagamenti elettronici, sempre meno persone vanno presso un ufficio postale per cui ne chiudiamo e aprendo delle agenzie, cerchiamo di correggere il tiro, però non è tanto la domanda che cala di servizi postali che poi induce l'offerta della posta a essere ridotta, è la riduzione del numero di uffici postali che ha portato molte persone a dire ok, ora pagherò tramite il mio computer o il mio telefono cellulare e non andrò più allo sportello postale. Idem per quanto riguarda l'invio di posta, userò le email e le lettere in fondo non mi servono veramente spedite tranne alcune. Ora si può anche addirittura fare la propria dichiarazione fiscale tramite dei formulari elettronici, per cui anche questo non è più un servizio postale garantito, però pensiamo che non tutte le persone hanno accesso alle nuove tecnologie o sanno utilizzarle correttamente e poi la posta è un fattore di integrazione sociale e anche un datore di lavoro importante, almeno fino a qualche decennio fa, ora sempre meno. Se viene meno questo servizio pubblico si sgredola anche la coesione nazionale, ci si allontana sempre più in quanto popolazione dalla politica federale, questo abbiamo visto in altre nazioni, fa del male anche alla crescita economica, all'integrazione delle persone che fanno fatica a vivere con il loro lavoro o comunque sono benefici della pensione ma non guadagnano abbastanza per vivere. Cerchiamo di risolvere i problemi anziché di crearne altri, tanto per finanziare le casse della confederazione. Professore, del resto vediamo una situazione in cui per esempio la posta che è proprietaria di Swisscom, Swisscom fa grandi acquisti all'estero, in Italia e quindi c'è una situazione anche che potrebbe compensare un eventuale guadagno inferiore di quello che c'è oggi e mantenere un rapporto con la cittadinanza basato sulle regole che ci siamo dati per la convivenza nazionale e sociale. Grazie per queste spiegazioni ancora una volta, alla prossima. Grazie a voi, arrivederci.